ciao ale senti facciamo un esperimento una cosa nuova se non funziona amici come prima allora l'altro giorno su twitter ho visto un pezzo di formigli inferocito contro uno studente di filosofia che mi pare si chiama Filippo si chiama Filippo delle Piane è scritto si legge in fondo e allora ho detto guardami voglio commentarla sta cosa con Ale e proviamo questo esperimento io non l'ho sentita non l'ho voluta sentire non so per cosa è esploso formigli magari c'è il nulla c'è il nulla qua proviamo ti va bene lancio il video se tu senti qualcosa per cui vale la pena fermare io lo fermo naturalmente andiamo Filippo voglio cominciare da te vent'anni studente di filosofia e già sei contro il green pass ti sei fatto un'idea chiara su quelli che sono i tuoi diritti quelli che sono i pericoli del green pass spiegami meglio però perché ma tutto è partito anche per capire un po' come è nata la dinamica è partito tutto in agosto quando sembrava ormai chiara la direzione appunto d'attacco che era diretta soprattutto agli studenti universitari noi abbiamo capito fin da subito che era in pericolo il diritto allo studio ora per chi si occupa della dinamica già da qualche anno come mi permetto di dire io nel senso che un po' di esperienza politica ce l'ho mi viene da dire che in realtà è un percorso che va avanti già da un po' e quindi quello del green pass certamente voglio dire è un tema scottante in questo momento perché mette in seria difficoltà alcuni studenti che noi proprio tastiamo nella realtà delle cose ma tu hai paura di una dittatura pensi che sia una forzatura della democrazia noi pensiamo certamente quando tu vedi gli idranti cosa pensi? beh allora anzitutto io sto sempre tendenzialmente dalla parte dei manifestanti è chiaro che le dinamiche di piazza sono dinamiche complesse io capisco che talvolta possa a Roma c'era forza nuova sono stati a prendere la CGL certo però è quello che sto cercando di dire è che le dinamiche di piazza sono complesse il movimento no green pass per quanto lo conosco io e credo di conoscerlo abbastanza bene è fortemente e in molti casi antifascista è chiaro che abbiamo delle infiltrazioni questo è un problema serio che noi ci poniamo ogni momento anche perché consentitemi di dire bisogna una cosa e si sono sicuramente totalmente no già mi ribole il sangue no? quando qualcuno usa la parola complesso perché mi viene in mente Costanzo Preve adesso cito a memoria quindi potrei anche sbagliare qualche parola ma preferisco citare il concetto cioè lui diceva che chiunque ti parla che chiunque ti parli di complessità vuole fregarti perché a tutti gli effetti la filosofia è una riduzione a una vastità di fatti empirici a un concetto semplice e quindi diffidate diceva di chi vi parla di complessità perché chi parla di complessità è come se stesse buttando la spugna come se stesse gettando la spugna il problema è complesso e quindi è inspiegabile invece bisogna conceptualizzarlo bisogna spiegarlo sì guarda io l'avrei fermato quasi subito quando ha detto che lui si occupa da anni di questa situazione non mi pare che il covid esista da anni quindi se li vede una linea continua tra quello che c'era prima e covid c'è un problema lì secondo me vabbè ma questo è perché lui è abituato a sentire cacciari che è da vent'anni che le dice le cose sì guarda andiamo avanti antifascista ma proprio genuinamente antifascista per me è anche un problema e in un certo senso un'accusa sentirmi dare del fascista certo noi questo problema lo combattiamo ogni giorno noi sappiamo che ci sono delle infiltrazioni però bisogna capire che le responsabilità sono certo nostre quando organizziamo le piazze dobbiamo capire quali sono le persone pericolose potenzialmente facinorose però ci sono anche delle responsabilità secondo me da parte delle istituzioni perché voglio dire l'audizione adesso che c'è stata in Parlamento nei confronti della Lamorgese secondo me fa vedere delle grosse lacune cioè tu a Roma c'eri? no noi come studenti contro il Green Pass perché abbiamo un pochino più di fiuto politico abbiamo detto subito noi il 9 non ci saremo eravamo il 25 a Roma che era una manifestazione tutta l'anno perché avevate già avuto l'idea lo sapevamo sapevamo che sarebbe andata in questo modo e infatti l'abbiamo evitata in qualsiasi modo giurlo? no voglio dire ok senti vuoi commentare ulteriormente? e questa è la storia dell'infiltrazione che è già partito o ascoltiamo questo video? no beh due parole si possono anche dire cioè allora il problema è cosa significa infiltrazioni nella piazza? che ci sia una una regia dall'alto che manda delle persone per rovinare le manifestazioni altrui e questa è l'ipotesi 1 no? però forse qui bisognerebbe prendere in considerazione l'ipotesi 2 non è che invece tutto sommato queste non sono infiltrazioni ma sono il frutto di un avvicinamento ideologico di quelli che vanno in piazza guarda se fosse una domanda di questo genere qui dovrebbero farsi infatti ascoltiamo perché visto che parlano di Forza Nuovax secondo me è proprio il pezzo interessante e quindi non è stata è stata meditata non c'è stato niente di estemporaneo quel giorno il 9 ottobre in piazza quello che parte vi avete visto il 20 ottobre del 2020 sembra una cosa da operetta noi vediamo Castellino Fiore il governo questo questo floristico questo governo nero veramente una roba da Repubblica dell'Operetta in realtà sono gli stessi personaggi che guidano l'assalto alla CGL noi un anno è passato da quel momento a questo momento Forza Nuova ha cominciato con le piazze di Ioapro ha continuato con le piazze dei Novax poi le piazze questo oppone hanno fomentato la piazza al grito di assassini un rapido giro su quello che abbiamo visto guarda non era il video che pensavo ma lo lascio magari sentiamo questo l'ambulazione del Green Pass così diciamo infiltrata da questa fascisteria che effetto ti fa? beh sicuramente mi fa un effetto che non positivo nel senso che io non sono contento nel senso talvolta è capitato anche alle nostre manifestazioni organizzandoci bene con un servizio d'ordine li abbiamo estromessi chiaro che a me non fa piacere stare con alcuni personaggi che tu li hai visti fascisti ma certo che li ho visti ma cioè bisogna anche capire credo che tu mi dici benissimo vedi una piazza così te cosa ne pensi da ragazzo con certe idee eccetera voglio ribadire che il nostro movimento è trasversale ma sempre all'interno della democrazia costituzionale questo deve essere molto chiaro però che cosa mi dice? mi dice che io in quella piazza ci devo stare assolutamente ma non per fare pappa e ciccia con quelli lì ma per prendergliela è questa la cosa diversa e siamo anche di più ma siamo anche di più tentativi di costruire un soggetto nuovo credo che Fanpage ha fatto un ottimo servizio perché è un reportage perfetto ma credo che si ipostatizzi in realtà la vera forza di questi di questi teppistelli di Forza Nuova perché ci sono state tante altre manifestazioni posso però dirti una cosa loro queste persone sono pochissimi prima San Luigi diceva lo 0,15% anche meno Forza Nuova non è mai stata così debole da un punto di vista del movimento non si presenta neanche sono leader senza popolo ma hanno due caratteristiche fondamentali la prima è che conoscono benissimo la prima sono i soldi ed è vicitleo e ne abbiamo parlato tangenzialmente la seconda è che conoscono benissimo dagli anni 70 le dinamiche della piazza li conoscono molto meglio di voi e le sanno certo no no il problema però che riguarda quello che diceva sicuramente è un problema di gestione dell'ordine pubblico c'è stato si poteva fermare quello che stava accadendo perché su questo siamo tutti d'accordo vabbè direi che hanno detto no posso dirti la mia vai vai intanto guarda io mi faccio una domanda perché è stato scelto sto ragazzo a rappresentare gli studenti no pass perché mi viene in mente come una mattina mi sono trovato Sartori in tv cosa abbia fatto di speciale Sartori nella sua vita fino a quel momento non lo sa nessuno adesso mi trovo sto ragazzo che sarà uno straordinario studente di filosofia però ha anche studiato le ore come mettersi in posa perché ha questo atteggiamento un po' tranchant pronuncia sbagliata ma che mi crea anche un po' così di rifiuto devo dirti la verità su quello che dice a me sembra già del primo video l'avevo accennato il fatto che lui già osservava da prima eh ma il covid non c'entra con prima il covid è un'altra situazione è un altro punto mi dispiace lui vuole fare un collegamento politico su un fatto che non è politico è gestito dalla politica eh piaccia o non piaccia bisogna trovare un modo di mandare avanti il paese senza bloccare gli ospedali e far morire troppa gente perché tra l'altro adesso noi ridiamo e scherziamo ma muoio una valanga di persone e quasi non ce ne accorgiamo e non ci pensiamo più quando se ti ricordi all'inizio pandemia ne morivano tre eravamo lì tutti quindi già abbiamo anche cambiato il nostro il nostro modo di vivere la situazione in più mi fa ridere la seconda parte noi dobbiamo prendergli la piazza per me sono tutt'uno per me sono tutt'uno e me dispiace intanto io non li chiamo no green pass non li chiamo neanche no wax per me sono negazionisti perché quando tu li vedi sono tutti ammassati tutti senza mascherina perdonami come faccio io a definirli in un modo diverso a me sembra un gioco semantico quello di voler cambiare nome anche perché paragone andiamo riprendiamoci la piazza tra l'altro sei di destra paragone sei più vicino a forza nuova che a questo studente che cerca di fare quello di sinistra secondo me sulla carta poi dirai tu la tua naturalmente no ma io su paragone non voglio neanche no no ma voglio dire siccome parli del punto di congiunzione no del punto di congiunzione quindi perdonami vuoi riprenderti la piazza no non vuoi riprenderti la piazza siete lì a combattere una battaglia che per me non ha senso tra l'altro e la vuoi giustificare in qualche modo e ti va benissimo qualunque alleato non è vero che non vuoi quelli di destra li vuoi li vuoi ti servono perché scusami Andrea ma no probabilmente questo no cioè è proprio qui secondo me il siamo veramente in una sorta di crisi di identità secondo me dell'estrema sinistra perché io sono ben convinto che lui non li voglia cioè sono ben convinto che lui in realtà si sente anni luce distante da forza nuova ma il punto è che come quello che dicevo prima bisognerebbe chiedersi sì però perché in quella piazza ci siete cioè che ci siano loro o che ci siate voi che sarete in grado di riprendervela però l'istanza di base cioè il motivo per cui andare in quella piazza qual è perché scusami la rivoluzione vogliamo fare la rivoluzione nel 2021 mi sembra un po' difficile onestamente come ipotesi non so che cosa vogliano in realtà se dovessimo ragionare in termini di estrema sinistra da quello che posso capire quello che loro vogliono è fare quel cazzo che vogliono appunto no ma esattamente no cioè perché non è che hanno una proposta una controproposta ma per cosa stanno manifestando cioè se domani tolgono tolgono sto benedetto vai vai no scusami no se domani tolgono sto green pass come lo gestiamo il covid facciamo finta che non c'è in Austria pare che vogliano se dovessero aumentare i numeri fare il lockdown solo per quelli senza per quelli non vaccinati se fossi stato Formigli che ovviamente è un personaggio che io non stimo per nulla però io gliela avrei fatta questa domanda ma in buona sostanza cosa volete perché onestamente in un mese di manifestazione non l'abbiamo ancora capito io ho guardato ho voluto vedere questi video perché praticamente ha alzato la voce e ha detto a sto ragazzo gliela fondamentalmente detto perché gli ha detto vaccinati vaccinati a fare il green pass c'è il covid accettamolo perché poi quello che volete voi cos'è l'obbligo vaccinale bisogna venirvi a prendere che poi guarda l'avevo detto io quando avevo parlato della scelta subottimale no parlando del green pass perché se tu metti il vaccino obbligatorio perché la cosa incredibile di queste persone è che se le senti parlare ti vengono a dire sarebbe meglio il vaccino obbligatorio sono contro il vaccino ma arrivano a una costruzione talmente razionale folle per cui ti dicono vaccino obbligatorio piuttosto perché sanno benissimo che se tu metti il vaccino obbligatorio non vengono a prenderti a casa perché in un stato democratico questa cosa non succede ok quindi in realtà perché sanno benissimo che non siamo in dittatura perché se sapesse se credessero davvero che siamo in dittatura si cagherebbero addosso all'idea del vaccino obbligatorio perché sarebbe veramente obbligatorio quindi diciamo che più chiaro ci sarebbero davvero delle azioni poi che potrebbero essere messe in essere se davvero fossimo in dittatura nei confronti dei dissidenti ma guarda poi io ti dico la mia ipotesi è che mi dispiace dirlo perché da un certo punto di vista mi do anche la zappa sui piedi però lo dico lo stesso io tutto sommato ritengo che loro vogliano che l'Italia faccia esattamente come l'Inghilterra cioè che tolga tutte le limitazioni che tolga il distanziamento che tolga l'obbligo delle mascherine a chiuso ma il problema è che comunque l'Inghilterra tra vaccinati e gente che si è ammalata ha molti più immunizzati dell'Italia e quindi vediamo cosa sta succedendo comunque ma la cosa interessante più che altro perché se fosse vera la mia ipotesi allora però bisognerebbe chiedere ma com'è possibile che voi di estrema sinistra in ultima analisi stiate invocando un provvedimento preso da un governo iper liberale come quello di Johnson cioè come fate alla fine ad arrivare lì a convergere esattamente con quello che per anni è stato il vostro nemico che veramente cioè per anni ci hanno fracassato le balle con questa storia che non si poteva tenere per la destra diciamo alla Le Pen o alla Trump ma bisognava stare con i liberali di sinistra perché comunque piuttosto che adesso fanno un passo ancora in avanti stanno con i liberali di destra perché gli hanno toccato la libertà personale adesso a me su internet è capitato di leggere uno dire non possiamo più parlare dei vaccini perché i numeri ci danno torto chiudiamola lì io capisco che parliamo di persone anche che hanno fatto un investimento emotivo enorme su questo tema quindi non cambieranno mai idea veramente c'è gente c'era un servizio del New York Times mi sembra dove intervistavano un signore intubato che comunque era contro qualunque forma di obbligo minimo di vaccinazione o di controllo del Covid perché lui era un libertario e per lui contava quello d'altronde ha investito tutte le sue energie mentali emotive su questo tema non cambia idea però la lungimiranza di dire aspettiamo perché queste persone è vero che oramai vivono in una bolla perché vivono quasi solo tra di loro ma conosceranno una mamma una famiglia che non è più della dad e che sta rivedendo la luce a vedere i propri figli andare a scuola ma non possiamo arrivare a gennaio a febbraio a parlare di queste cose possiamo per cinque mesi se non vuoi vaccinarti fai sto benedetto tampone chiedi che ti venga dimmi no l'hai detta giusta tu è esattamente questo il problema il problema è che ormai questi qui si stanno anche ghettizzando no perché probabilmente è vero cioè considerano tutti quelli che si sono vaccinati e che non sono d'accordo con la loro proposta come dei nemici e quindi continuano a parlarsi fra di loro il problema è che se tu ti parli con uno che la pensa esattamente come te è sempre un monologo alla fine e il dialogo non passa e non ti sviluppi cioè che poi è un po' la storia dell'estrema sinistra degli ultimi vent'anni non hanno mai accettato il confronto con altri un po' meno di sinistra di loro e qual è successo? che si sono ghettizzati e stanno diventando ormai partiti ad persona che la pensa è come forza nuova e partiti ad persona perché fanno partiti sempre più piccoli perché non si confrontano tra di loro basta che uno abbia un'idea diversa e deve farsi il suo movimento è fantastico il dogma il dogma ma poi guarda adesso io mi sono anche permesso di entrare in campi che magari non facciamo un ragionamento invece da DA democrazia assoluta esatto sì e allora a me sta bene che questi qui cerchino in tutti i modi di propagandare la loro idea e di far cambiare l'idea e opinione a gente come Mette ripeto sempre si può dire si può propagandare non si può fare se sei un vero democratico se tu vuoi passare subito all'azione tu puoi essere di estrema sinistra di estrema destra liberale marxista comunista fascista tutte le etichette politiche che vuoi ma se tu vuoi passare immediatamente l'azione non sei un democratico perché non hai accettato di passare sotto le forche caudine della democrazia mi sembra proprio tombale questa cosa assolutamente non c'è non c'è dubbio il problema per loro è che insomma anche se qualche magari vaccinato può per qualche ragionamento diciamo particolare essere contro il Green Pass la maggioranza degli italiani sarà anche per cui a te vivere saremo delle pecore però mi sembra che abbia accettato e accetti questa situazione per uscirne esatto ma più che altro è che sono loro che hanno accettato di essere una minoranza perché altrimenti non ci chiamerebbero pecore non ci chiamerebbero cani non ci chiamerebbero cani perché è chiaro nel momento in cui tu inizi a appellare l'altro con aggettivi o nomi infamanti significa che in cuor tuo tu hai già deciso che quella persona lì non è più convertibile o tu non vuoi più convertirla cioè è molto semplice allora se per te io non sono più qualcuno con cui dialogare ma sono il nemico beh però accetta che anch'io ti tratti allo stesso modo però guarda non puoi nunca aspettarti che io ti butti le braccia al collo però eh tu sai il discorso di otto pesi e ventiquattro misure tu sai che io sono stremato perché penso veramente lasciateci uscire da sta situazione poi ne parliamo andate a fare i processi alla corte europea che poi fino all'altro giorno erano tutti sovranisti odiavano l'Europa e adesso si appellano vogliono andare in Svezia a fare tutte queste cose qua sono meravigliosi io sono stanco allo stesso tempo io pur da vaccinato sono contro la vaccinazione per i problemi che ti ho detto perché o poi diventi uno stato veramente fascista obblighi tutti o crei un vero ghetto fisico per queste persone non vaccinate quelle che resistono a me sembra che il Green Pass sia una soluzione suboptimale si può migliorare la possiamo migliorare puoi dire facciamo un tampone alla settimana facciamo un tampone alla settimana tra l'altro questa enorme quantità di tamponi ha un enorme pregio finalmente consente di monitorare il Covid in una maniera che non è mai successa prima ti ricordi quando durante la pandemia prima che ci fosse il vaccino si diceva bisogna monitorare fare più controlli controlli ed erano anche queste persone qua perché dire facciamo tanti controlli così torniamo a vivere normalmente e becchiamo la gente prima che possa contagiarne altre è quello che sta succedendo era quello che volevano perché erano quelli che volevano aprire quando era tutto semichiuso e dicevano bisogna monitorare controllare e non era sbagliato il ragionamento adesso si fa tra l'altro ha un costo enorme questa cosa quando di contro c'è un'opzione che è il vaccino che costa molto meno perché con due dosi di vaccino ti fa in tampone alla fine ma più che altro è notevole questa cosa che abbiano mandato lì uno studente proprio di filosofia perché probabilmente era un po' come dire e beh insomma vi mandiamo uno che fa filosofia ne saprà di cose uno che fa di filosofia peccato che ormai sappiamo benissimo che le facoltà di filosofia sono delle facoltà che praticamente hanno commesso seppuco perché in buona sostanza la filosofia si è suicidata che poi a ben vedere a quel punto avrebbero anche dovuto invitare uno studente di medicina magari no? sì esatto esatto perché comunque stanno dando a questo ragazzo un ruolo che non ha nessun che non è suo cioè gli stanno dando un ruolo politico lì intervistano un giorno Draghi e un giorno ok ci siamo capiti allora facciamo un confronto tra uno studente che è in un'estrema minoranza tra l'altro che è contro il Green Pass e uno che è a favore e magari quello a favore ti spiega perché è a favore io resto dell'idea che studia tutta la filosofia che vuoi ma se tu mi vuoi fare un collegamento tra questi ultimi trent'anni dove l'educazione e la scuola sono stati devastati ed è stato reso sempre più difficile magari per un ragazzo frequentare l'università al Covid stai facendo proprio un lavoro che secondo me è fuori da ogni grazia di Dio perché non c'è un collegamento perché è un virus un fatto naturale che è capitato no ma soprattutto cioè bisogna capire anche ma i suoi insegnanti che filosofia gli hanno insegnato perché non è che c'è una filosofia ci sono le filosofie no cioè è chiaro che ci sono delle scuole filosofiche quelle a cui appunto si abbeverano Cacciari e Agamben che effettivamente dal loro punto di vista è vero il Green Pass è una cosa mostruosa perché eccetera eccetera ci sono però anche altri filosofi che potrebbero dire la loro su questo su questo punto insomma e poi bisogna capire anche le le coerenze e le sorgenti comuni e i punti di divergenza invece la cladistica no delle idee filosofiche tanto per usare un linguaggio pretenzioso al massimo voglio dire a chi a chi sono apparentati Cacciari e Agamben nella loro con un pensiero socialista insomma non credo poi aggiungo questo poi chiudiamo no ma io credo che veramente c'è un sacco di gente che aveva proprio perso la strada concettuale in quello che sta succedendo in questi in questi anni cioè per esempio sentivo uno che diceva non è possibile questa mancanza di pietà nei confronti delle minoranze una volta eravamo tutti molto più tolleranti nei confronti delle minoranze adesso c'è gente che manifesta per per il green pass e tutto sommato la sensazione comune è usate gli idranti e io volevo dirgli sì perché le minoranze sono tali quando lo sono contrariamente alla loro volontà se tu sei volontariamente minoranza sono cazzi tuoi potevi benissimo non essere minoranza ma poi perdonami veramente però possiamo chiuderlo ma se sei una minoranza che mette in pericolo la salute della maggioranza avrò ben anche il diritto di difendermi cosa bisogna fare siccome sono una minoranza accettiamo allora anche i ladri sono una minoranza accettiamo soprattutto io sono minoranza nel momento in cui qualcuno ha deciso che io lo sono ma non perché io ho deciso di esserlo in quel caso non sono più una minoranza sono semplicemente uno che vuole rompere le balle sì no anche perché c'è una grossa differenza tra i due concetti perché per assurdo se ci fosse il vaccino che ti garantisce al 100% di non ammalarti potrei quasi iniziare a dire ma fate come volete poi il problema è che vanno in crisi gli ospedali e per una visita medica perdi sei mesi però facciamo finta che questa cosa non succeda vuoi rischiare rischia siccome il vaccino purtroppo non è efficace al 100% mi stai veramente mettendo in pericolo quindi soprattutto c'è anche un problema di esempio cioè il fatto è che bisogna fare degli comportamenti virtuosi nei confronti della comunità e far passare l'idea che è giusto fare dei comportamenti virtuosi nei confronti della comunità e bisogna stigmatizzare i comportamenti che invece premiano l'egoismo e i freerider e questo non soltanto per il covid ma sempre anche perché sarà necessario ormai negli anni che verranno essere veramente sempre più cooperativisti e sempre più comunitari perché altrimenti veramente non perché allora quando chiederanno a questi giovani di stare a casa appunto perché non possono più usare il treno perché consuma troppo CO2 cosa faranno no io vado lo stesso no visto che cioè il problema qua è molto serio è chiaro che verranno domandati dei comportamenti virtuosi di massa nei prossimi decenni vabbè se vogliono fare una battaglia ambientale dovranno essere loro a chiedergli i giovani perché esatto il giovane lì di filosofia sarà chiamato a comportarsi in una maniera ultra virtuosa nei confronti della comunità cosa faranno una battaglia tipo gli americani in base all'aforisma il West non è stato mica conquistato è con un fucile registrato no parliamone che siamo sempre lì sì sì io penso comunque che tanto fino a dicembre il Green Pass lì c'è qua c'è e qua resta perché gli esempi inglesi sono chiari quello che sta succedendo in Russia dove ci sono pochi vaccinati poi è incredibile praticamente il lockdown per gli over 60 che magari si sono anche andati a vaccinare che è questa una cosa bellissima l'Austria che promette il lockdown solo per i non vaccinati o ci mettiamo l'anima in pace e chi non vuole vaccinarsi si prende questa responsabilità io capisco che è un costo onestamente io sono costato 20-30 euro di vaccino non è che puoi pretendere di costare 1000 euro in un anno perché con quei 1000 euro per 2 milioni di persone forse costruiamo qualche ospedale quindi hai fatto per rinunciare tutti quanti alla terza dose se ci fosse malagolatamente una variante senti direi che abbiamo detto tutto sì sì ci sarà tanta gente a Trieste a cui difischierà le orecchie che potrebbe anche essere il sintomo del covid beh no ma lì c'è anche tanto vinto tra l'altro quindi può essere il buon Filippo se ha voglia di risponderci noi siamo qua da parte mia saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci esatto saluto anch'io al prossimo video grazie a tutti